Il Teramo espugna il Rocchi di Viterbo dopo 18 anni, batte meritatamente la Viterbese per 3-2 e porta a casa un successo che vale oro per la salvezza grazie ad una ripresa super che ha messo capa o gli avversari. Guidi lascia Jacoponi inizialmente in panchina e torna alla difesa a 4 con l'inserimento di Mordini a sinistra e Boa a destra, Rossetti a centrocampo e in avanti Bernardotto preferito ad Andrea 4-3-3. Fuori Codromaz per squalifica, nella Viterbese assente Polidori squalificato, in campo subito Lex Mungo in attacco Bianchimano in coppia con Volpicelli. Un primo tempo complicato per il Teramo che subisce l'avversario il gol nella prima mezz'ora, si sveglia sul finale di tempo dopo il raddoppio dei laziali e riapre la sfida sul rigore proprio alla fine del primo tempo. Si parte al secondo minuto, Viterbese in vantaggio, D'Ambrosio di testa sorprende Perrucchini e un po' tutta la difesa biancorossa. Doccia fredda per il Teramo che prova a ripartire ma la squadra è in difficoltà sul piano della manovra lenta e prevedibile. All'undicesimo ci provano ancora i locali, prima con Calcagni di poco fuori, un minuto dopo con Volpicelli dalla distanza alto. E sempre la Viterbese pericolosa al venticinquesimo, colpo di testa di Bianchimano, si distende Perrucchini e blocca. Si fa vedere il Teramo dopo 27 minuti con Bernardotto di testa alto. I padroni di casa insistono in avanti e sfiorano il raddoppio con Bianchimano al trentaduesimo, grande riflesso di Perrucchini che salva i suoi in due tempi. Il raddoppio però arriva cinque minuti dopo sul calcio di rigore, dal dischetto Volpicelli non perdona. Le emozioni non mancano, il Teramo si sveglia e sul capovolgimento di fronte al trentottesimo viene atterrato in area bua. Calcio di rigore per il Teramo, dal dischetto Arrigoni realizza e riapre la gara, si va a riposo ma il Teramo nella ripresa è più determinato e si vede. Subito un cambio Jacoponi per Fiorani e Asiosmanovic per Cisco, 3-4-3. Ancora i padroni di casa però pericolosi al quarantottesimo con Mungo, il pallonetto termina alto ma nella ripresa si vede che in campo c'è un altro Teramo. E al cinquantaduesimo arriva il pareggio, meritato, lo firma Bernardotto su assist di Rosso, il diagonale del numero nove, lo non lascia scampo, Fumagalli, 2-2. Ora la squadra di Guidi lotta di più e in campo il tecnico Guidi mette forze fresche da Andrea per Rosso e De Grazia per Bois. Al settantasesimo ci prova semenzato dalla distanza alto. Al settantottesimo su un'azione di contropiede De Grazia sul passaggio di Bernardotto che con il mancino firma il 3-2, risultato capovolto con merito dei biancorossi. Negli ultimi minuti grande pressione dei laziali, ma il Teramo stringe i denti e strappa una vittoria pesantissima, 3-2 per la classifica, per il morale, la seconda consecutiva e compie un grande passo in avanti in classifica. E mercoledì al Bonolis arriva la Pistoiese.